dunque dopo aver visto le fattezza della meditazione delle meditazioni dinamiche che rappresentano un ottimo punto di partenza per entrare nella vera e propria meditazione aver visto anche le meditazioni in movimento e aver individuato quelle che sono le principali nozioni in ambito di osservazione attenzione e gioco è possibile andare ad individuare delle dei veri e propri trucchetti per entrare in meditazione in maniera più agevole la presenza l'osservazione e la giocosità della vita sono sempre da mantenere come baluardi fondamentali vediamo oggi quella che è la tecnica del sì e la verifica del no non tutti probabilmente ci rendiamo conto che abbiamo acquisito un meccanismo del no a prioristico spesso addirittura aprendo proprio i nostri discorsi con l'utilizzo della del no e questo conduce con sé il risuona il suono di risuonare del contrasto e del conflitto anche se non è nelle nostre intenzioni è chiaro che questo è questo conflitto evoca evocato in tutto il nostro essere quindi interiormente anche nella nostra della nostra mente nella nostra nella nostra spiritualità è chiaro che invece aprire un discorso o comunque condurre le giornate con un gran bel sonoro sì sicuramente risuonerà in maniera differente nella nostra mente nel nostro nel nostro cuore e condurrà tra l'altro con sé maggiore apertura e anche una maggiore accoglienza rispetto nei confronti dell'altro e nei confronti di tutto il mondo dunque le tecniche che si possono quindi utilizzare per migliorare l'apertura del del cuore sono innanzitutto l'inversione della tendenza ovvero l'utilizzo a prioristico del sì piuttosto che del no e l'utilizzo anche per sole 24 ore metterà bene in evidenza come questa questa inversione conduce con sé tanta positività meno bronci e meno musi lunghi e l'altra tecnica consiste nel ripetere una sorta di mantra del sì che parte dal nostro centro più profondo che l'ombelico ed è una ripetizione appunto come se fosse un mantra del del sì questo aiuterà a silenziare la mente e a sprigionare tanta positività ed aprire il cuore al prossimo incontro